Vorrei riprendere qui un concetto che mi sembra importante anche per quello che riguarda l'evoluzione della liturgia e della musica sacra. Questo concetto è quello della continuità o della rottura fra impero romano e cristianesimo. Certamente alcuni vedono il cristianesimo come novità assoluta che spazza via il paganesimo romano per instaurare un nuovo paradigma, come avrebbe detto Hans Kung. Altri intravedono una certa continuità, certamente con contenuti più alti nell'annuncio della buona novella. Dicevamo in precedenza come Alfredo Ottaviani negli anni trenta avesse affrontato questo argomento in una conferenza presso l'istituto degli studi romani. Ne parla Don Curzio Nitoglia che dice L'allora Monsignor Ottaviani scriveva sui rapporti tra cattolicesimo e impero romano per dimostrare come il primo avesse perfezionato e non distrutto il secondo. Nel primo capitolo del suo libro affrontava i primi contrasti tra cristianesimo e roma pagana nei primi tre secoli ed i successivi contatti tra le due entità specialmente per quanto riguarda l'influsso benefico della dottrina cattolica sul diritto romano antico. Nel secondo capitolo studiava il problema delle basi del diritto comune, comune alla chiesa e a Roma antica, basi date all'antica Roma invasa dai barbari dal cattolicesimo che grazie alla sua luce soprannaturale seppe unire l'elemento romano alla forza germanica. Nel terzo capitolo scriveva sulla questione dei rapporti tra cattolicesimo e modernità riluttante che cercava di sottrarsi laicisticamente all'influsso del primo. Nell'ultimo e quarto capitolo illustrava il modo in cui il cattolicesimo avrebbe dovuto, secondo le direttive del magistero di Pio XII, informare la civiltà del secondo dopoguerra, direttive ampiamente disattese e combattute dalla filosofia, dal diritto e dalla politica contemporanea anche democristiana. Qui finisce la citazione. In effetti possiamo pensare che nella liturgia il è un retaggio delle acclamazioni dei vincitori poi passato all'uso cultuale. Pensiamo alla cerimonia dell'Adventus che dall'uso imperiale era passata a quello cristiano. Donnitoglia anche osserva nel testo citato in precedenza e cito «Quando Carlo Magno nella notte del Natale dell'Ottocento ricevette la corona di imperatore del Sacro Romano Impero dalle mani del Papa, ricevette e fece suoi anche il libro dei canoni o delle leggi romane e cristiane. Il nuovo impero era sì germanico ma anche romano e sacro, ossia della nuova Roma che aveva perfezionato l'antica come la grazia perfeziona la natura. Lo stesso diritto romano e naturale di cui si erano avvalsi i cristiani per perfezionare la legislazione dell'antica Roma servì alla chiesa per civilizzare, romanizzare e cristianizzare i popoli barbarici». Fine della citazione. Insomma ci fu non un rinnegamento ma un completamento della religiosità romana che venne sublimata nel superiore annuncio cristiano. In quello che andiamo dicendo è importante considerare il ruolo importante appunto fatidico di Roma. Questa continuità di cui parliamo è anche nel segno del ruolo centrale che ha la città di Roma nei destini dell'umanità. Purtroppo noi abbiamo perso questo senso sacrale delle cose ma la nostra Roma è impregnata dalla sua missione divina come anche aveva riconosciuto Plinio il Vecchio citato da Ottaviani. Nel discorso radiofonico di Pio XII del 1941 viene detto «Noi guardiamo oggi, diletti figli, all'uomo Dio, nato in una grotta per risollevare l'uomo a quella grandezza donde era caduto per sua colpa, per ricollocarlo sul trono di libertà, di giustizia ed onore che i secoli degli dèi falsi gli avevano negato. Il fondamento di quel trono sarà il Calvario. Il suo ornamento non sarà l'oro o l'argento ma il sangue di Cristo, sangue divino che da venti secoli scorre sul mondo e imporpora le gote della sua sposa, la Chiesa, e purificando, consacrando, santificando, glorificando i suoi figli diventa candore di cielo. O Roma cristiana, quel sangue è la tua vita, per quel sangue tu sei grande e illumini della tua grandezza anche i ruderi e le rovine della tua grandezza pagana e purifichi e consacri i codici della sapienza giuridica dei pretori e dei cesari. Tu sei madre di una giustizia più alta e più umana che onora te, il tuo seggio e chi ti ascolta. Tu sei faro di civiltà e la civile Europa e il mondo ti devono quanto di più sacro e di più santo, quanto di più saggio e di più onesto esalta i popoli e fa bella la storia. Tu sei madre di carità, i tuoi fasti, i tuoi monumenti, i tuoi ospizi, i tuoi monasteri e i tuoi conventi, i tuoi eroi e le tue eroine, i tuoi araldi e i tuoi missionari, le tue età e i tuoi secoli con le loro scuole e le loro università, testimoniano i trionfi della tua carità, che tutto abbraccia, tutto soffre, tutto spera, tutto opera per farsi tutto a tutti, tutti confortare e sollevare, tutti sanare e chiamare alla libertà donata all'uomo da Cristo e tranquillare tutti in quella pace che affratella i popoli e di tutti gli uomini sotto qualunque cielo, qualunque lingua o costume li distingua, fa una sola famiglia e del mondo una patria comune. Questa era la bella citazione di Pio XII. E se osservi quel passaggio, o Roma cristiana, quel sangue è la tua vita, per quel sangue tu sei grande e illumini della tua grandezza anche i ruderi e le rovine della tua grandezza pagana e purifichi e consacri i codici della sapienza giuridica dei pretori e dei cesari. È un passaggio molto importante. Questa idea della signoria di Roma sul mondo per il sangue dei suoi martiri, martiri la troviamo nell'inno medievale, o Roma nobilis, o Roma nobilis, orbis e domina, cuntarum urbium eccellentissima, roseo martirium sanguine rubea, albis et lilis virginum candida, che significa, o Roma nobile e signore del mondo, eccellentissima tra tutte le città, rossa del sangue rosato dei martiri, splendente dei bianchi gigli delle vergini. Insomma, questo ruolo di Roma, popolo di guerrieri e città sacra, non sarà perduto nel primo cristianesimo e nel suo canto, non un canto perseguaci del corrotto ed orientalizzante imperatore Elio Gabalo, ma canto virile e impregnato del sangue dei martiri e dei santi.